nessuno eh? eh si perchè da dammi l'ossigeno, chi ha l'ossigeno da darmi? guarda che sta filmando, filmami con l'XR eh? gira gira, no gira, sta andando, devi solo, vai indietro, fai vedere l'XR che... in mezzo ai boschi in pieno inverno e salita tu senza far fatica va che mezzo eh? e si arriva allora lì il lato sotto posso, voglio aiutarli sono lì non ha fatto giudicare, non ha fatto giudicare eh si, devo andare giudicare c'è ancora il KTM qua sui sui